Ciao a tutti ragazzi, sono SilverDX e in questo nuovo video sono a continuare Crash Bandicoot Tomb Time, facciamo questo, c'ha due gemme addirittura, mamma mia Facciamo Tomb Time, questo è un altro livello che mi piaceva a macello No, non voglio... ecco, quanto è brutto, non volevo vedere la faccia Hai visto? Hai visto? Non dovevo guardare la faccia di Dingo, dai In 3D, modeling 3D fatto malissimo Ma, incominciamo Oh, ecco un serpente iniziale Mi sempre piace tutto questo livello, anche insieme a quello dell'Egitto Dell'Egitto, ma degli Arabi, quelli che abbiamo fatto nella scorsa puntata Mi piaceva anche questo livello Ok, guardate, questo, questo aspettate, questo è facile, non avete visto gli altri Sono più difficili Questi sono livelli che facevo da bambino, perciò molte cose me le ricordo a memoria Perciò so più o meno come cazzo devo muovermi Ecco, ora qua sta livello bonus Giriamo come i coglioni, così Guardate, modeling 3D, mamma mia Ah, ecco, livello bonus è la prova a fianco Non c'è bisogno di cambiare... cambiare location Facciamo esplodere la TNT Allora qua, mi ricordo se faccio... 1, 2, 3 Ok Il naso mi prude Ma non ogni volta che faccio i video mi deve prudere il naso Prodere il naso, mi deve prodere il naso Cazzo Che coglione Che coglione, ragazzi Avete visto, avete un esempio di coglione Ossia io No, io qua c'ho bisogno del doppio salto Per forza, per completarli tutti Oddio 38 su una... eh, vai, tutte le mele, così Andiamo No, non sto giù Stavo andando giù, che culo, ragazzi Avete visto, avete visto la bravura Non è culo questo, è bravura No, vai cazzo, vai Guardate Mi divertivo ogni volta che premivo cadeva qualcosa, guardate No, come dire? Aspettate C'era... in pratica se io giro così Cade, allora mi piace Mi piaceva Ma davvero quanto mi piace Le coglionate Le coglionate Questa è della serie proprio Le coglionate di SilverDX Cioè Le coglionate proprio Che cozzata E se ne va giù Vai E se ne vanno le mele Non sono mele Sono frutti uo... Un po' Perché faccio ste cazzate? Non sono da me... E se ne va E se ne va Se ne va Non andare giù come un coglione Vai Salta Allora Ora giochiamo seriamente Non facciamo più cazzate Perché io Mostro Bravissimo Nel giocare a Crash Bandicoot Non posso fare queste cazzate Durante una registrazione E poi quando sto offline Riesco a finire Tutto il gioco completo Al 100% Anzi al 99% A causa della gemma dorata Sembra gemma dorata Dalla scorsa puntata eh Che non riesco a prenderla Akuaku si è sbloccato Lanciando quel coglione in aria E dai Mamma mia Wow Queste qua Mi prendo paura Di quei cosi là Poi lo vedrete Più avanti Quando faremo altri livelli simili Tanto le cazzate le farò Perché non è finito Mica è solo questo Dell'Egitto Sì ragazzi Madonna Che culo Che culo Che enorme culo Che culune Guardate Io se c'avevo la trottola Che girava Se c'avevo un doppio salto Arrivavo lì E prendevo l'altro Akuaku Si poteva fare Sì Ma quello Almeno devo finire Quasi tutto il gioco Cioè Beh perché 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 Convinto Convinto proprio io Convinto Guardate Cioè Ma fanculo Mi sono rotto il cazzo Di queste cose Tanto ormai Non la posso prendere più La La gemma Perché Non sono riuscito a prendere la vita Prima Nella Nel livello bonus No Mi viene solletti con la lingua Come fa a venire un solletti con la lingua Ma guardate Sta cacando Comunque dai Oh 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 Vaffanculo Vaffanculo 14 19 vite Cazzo Non è poi così male Dai Però cazzo 19 vite Qua c'era bisogno di Akuaku Invece no No Non posso Madonna Aspettate eh Ti attiverai quando lo dico io No Coglione di merdo Ma grappati dai Aggrappati Tipo gli ultimi Crash Bandicoot Che ti puoi accrappare No Crash Bandicoot È già tanto chiamare i Crash Bandicoot Gli ultimi Gli ultimi titoli Non sono proprio Crash Bandicoot Hanno solo In Crash Bandicoot C'hanno solo il nome Il personaggio Che bug Cale Ma che cazzo si fa Quale bug Ragazzi Quale bug Quale bug Dio Quale bug Cioè ma che cazzo Ok Continuiamo Vai Quale bug Devo cercare di prendere Quale scatole da sopra Ma non interessano Dai Lasciamole andare Dobbiamo finire il video In tempo Se ne è andato E fu così Che se ne andò Ho preso il cristallo Ho preso il cristallo No 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 Madonna Nervoso Qua non posso prenderla ancora Perché No E se ne va giù Come un coglione Proprio Ma come cazzo si fa Cioè ragazzi Ma come cazzo si fa Qua è difficile Qua non mi brucio Ogni tanto Madonna Ecco qui Tutto se ogni tanto Sono momenti di silenzio Sono momenti di suspense Per capire come cazzo Devo fare Le scarpe che si bug Quando cade Come cazzo Devo fare Devo capire Come cazzo fare Sto gioco Allora Corriamo Come un coglione No No Allora Calma 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 Non è successo niente Dai Per poco Non mi ha preso E mi ha incarbonizzato Uff C'è sto livello di merda Ragazzi Cioè Dovete vedere quelli finali Allora Quanto tempo dobbiamo perdere Quanto tempo Dobbiamo perdere Ok No Non carbonizzarmi Sempre a inquadrare Il culo Sto cazzo gioco Il culo di Crash Bandicoat Questo sarebbe Il culo della Sony Sì Il culo della Sony Questo Il culo di merda Di quella marca di merda Sì va bene Come la penso io Su certe cose Non potete mai capire Ora andiamo E buttiamo Perché Perché ho fatto questo Perché Madonna Quanto tempo ho perso Per sto livello Un bordello Un bordello Un bordello di tempo Dobbiamo fare il livello Il livello 10 No no Il livello 10 È questo Ah ora Ora è finito il livello No Il 10 era questo Qui Ah di notte Quello Ma che cazzo Ma che cazzo Oddio Faccio un livello 10 E poi nella prossima puntata Vediamo se faccio Quello di Dingo Dile Quello di Quello finale Di questa serie Perché Non lo so Non è che sia tanto bravo Cioè oddio Sono bravissimo A giocare Però in certi casi Da quando non gioco Da molto tempo È così Infatti l'avete visto Come faccio Feli certe volte Ho sbagliato Guardate quel colline Che corre Che dite Se ne va giù Quello Uh Wow Wow Io basta che giro così Non è utile Che primo la freccia avanti Che cazzo Primo la freccia avanti Guardalo Se ne va giù Se ne va giù Quello se ne va giù Secondo me Quello se ne andava giù Wow Boing Uno E niente Ma io secondo me Questo qua se ne va giù Cioè io me lo sento Questi qua Guardali Guardali Io voglio vedere Se se ne va Che cazzo Che cazzo Io voglio vedere Se se ne vanno giù Guarda Guarda Aspetta Non provo a me Per partire Ecco Non mi viene la parola Ragazzi Ecco Questo passa da sopra E quest'altro passa da Da in mezzo Ecco Sono andato contro E guarda Quelli continuano a camminare Le animazioni Allora Io voglio andare piano Provo per vedere Se se ne va giù Questo Madonna Questo qua Se ne va a cazzo Questo qua Se ne va a cazzo Però non se ne vanno giù Quelli Guardali Ma che cazzo Si muovono Ma questa sarebbe La murelia cinese Ora l'ho capito E non ho preso Nemmeno la vita La vita che poi Esce Crash Invece di Coco Come tramite L'animazione della vita La texture Pure della vita Andiamo Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai Il tasto Sì il tasto per andare più veloce Secondo me quello se ne va giù Secondo me Quello se ne va giù 26 su 35 Dai grazie Fidato amico mio Che ora possiamo uscire Con un computer in mano Ma che cazzo una valigetta, un diario, che cazzo è? Dai che ora arriva lo sclero time Eccolo alla Dingo dai che non ho capito ancora se un maschio è una femmina Secondo me dovevo salvare prima Ma vaffanculo andiamo Non salvo da due video Due video fa ho salvato Non ci interessa la faccia tua, fa schifo al cazzo Continuiamo Ok ora questo livello è difficile Questo livello è difficile ragazzi Quando dico difficile non intendo difficoltà Tipo quelle che avete visto ma questo livello è veramente difficile Cioè guardate che cazzo Cos'è un Un cane mischiato con un coccodrillo Cioè Eccolo là Allora qua dobbiamo cominciare a scappare Dobbiamo scappare dalle macchie che escono Se no ci prendono in pino Ecco mi ha corbonizzato infatti E salta proprio firo Allora Eccolo dove arrivano le macchie Ok io quindi vado da sta parte e non mi arrivano Ok ora dovrebbe fare le Dovrebbe naturalizzarmi Ok Ora dovrebbe naturalizzarmi Eccolo là Calma 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 Non è successo niente Calma Calma Allora Qua so cazzi adesso Allora punta diversi di me Ok Punta diversi di me E spara Punta diversi di me E spara Dall'altra parte E ride pure E ride quello stronzo Allora Diciamo che Mettiamo il caso che io non debba scappare No rimango fermo Cos'uccede me la prendo in culo Cioè Allora Ok Due Tre No questo fino a quando non rompe tutti i cristalli Fino a quando non riesco ad entrare e ucciderlo Ok ancora Ok Attenzione che qua esplode ora Dovrebbe esplodere Boh Ce l'ha fatta Ok se li crea ora è ancora più difficile rispetto a prima Perché ora escono doppie macchie Non più una macchia Anzi no Una macchia Escono due Escono sì macchie però sopra e sotto E se è sempre una alla volta per ora Uff Vediamo No No Madonna Ah Calma 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 Guarda Calma Calma vaffanculo la calma Allora Qua ora dovrebbe fare Gi 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 Ok ha fatto gi 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 Madonna 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 Ok Usa le macchie qua Guarda a caso proprio addosso a me mi stanno arrivando Ok Dai colpisci Dai colpisci Dai colpisci Stronzo 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 non so che cazzo sei Un asessuato sei Qua devi colpire Scemo non mi prendi No Mamma mia che culo Ok 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 ci siamo Ci siamo Qua sta per esplodere Qua sta per esplodere Grande Ora manda le macchie a cazzo aspetta Aiuto paura Non posso nemmeno grattare il naso Cazzo Me lo devo togliere sto naso Devo fare come un amico mio Che c'è un naso così grosso Che nemmeno sente L'olfatto Per pensare al naso Per pensare al naso E salta pure Ah Vai lanciala le macchie Vai vai Stronzo vai Muori Vaffanculo Guarda guarda Controlla pure Non ci riuscirò mai Non ci riuscirò mai Ah devo spostarmi E' vero Le macchie volanti ogni tanto Dai che qua in questo hard disk Non c'è limite di hard disk Perciò posso farlo durare pure una vita il video Ve lo dovete esorbire Ma sempre da una parte rompi Mamma mia Oh oh non riesco a uscire Ok ce l'ho fatto di uscire Uh uh Ecco esploso Ok vai Ora spara Eh qua so cazzi ora Si fa doppio giro fa Se non ricordo male Ok Aspetta che mi viene da grattabullo orecchio Ma che cazzo Aspettate Uh stronzo di merda Volevi farmi eh Nooo No Cazzo Oh madonna Porca Eva Madonna Non ci riesco proprio Non ci riesco Non ci riesco Non far ridere Ragazzi non far ridere Non dovete ridere Non dovete ridere Non dovete ridere Dove cazzo vai Aia Dove cazzo vai Vai che ti uccido Ok Non riesco a uscire Ok Mi nascondo Uh 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 Ok è esploso Siamo ancora all'inizio eh Ora dovrebbe fare doppia macchia Ok Ora devo stare attento Che qua mi prende Me la prende in culo ora Guarda a caso proprio qua Sta arrivando la macchia Ok Basta Vieni qua Girati coglione Ok Ok Madonna 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 Ma che cazzo L'odio profondo L'odio Più profondo Cioè Il senso dell'odio Cioè Non ce la faccio Voglio pure come un coglione Come cazzo facevo da piccolo A farlo tutto Cioè Non lo so No Questo veramente è difficile eh Questo veramente è difficile Non è facile raga Per me non è facile Eppure io sono bravo a questo gioco Però che cazzo eh Questo è un bestemmi di far schiattare Ok Ora non riesco più a uscire Me la prendo in culo Ok No no Ce l'ho fatta Ok Fino qua ci siamo Ora Risvolta Negativa Ok Qua rilascio le orme Guarda a caso Proprio qua Deve arrivare la macchia Vai Vai Sto concentrando raga Perciò non riesco a parlare Certe volte Dai Pegliateli in culo adesso Sai che abbiamo ancora una cosa da fare E ora diventa più difficile Ancora più difficile Guardate Mua doppia macchia Guardate Guardate A double Guarda 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 Ce ne prende due Non mi ha preso Non mi ha preso Non mi ha preso Non mi aveva preso Cazzo Non mi aveva preso No madonna Non mi aveva preso Perché Perché fa così Perché Muori Allora Ma no Dai No faccio Schiattere un'altra volta Ok Non mi aveva preso E qua Quaco Mi esce Bravo Che cazzo Non mi serve un cazzo Quaco Con questo livello Se vengo neutralizzato Vengo neutralizzato Cioè Non serve un cazzo Qua No che palle Ma non mi fa compagnia Dai Madonna Dove ne troviamo più Di videogiochi del genere Cioè Veramente È troppo difficile Vaffanculo Ok Ok 5 vite Mi sono rimaste Cioè Non so da quanti anni Che sto facendo Sto gioco qua Da quanto tempo Che sto caricando Sto video Sto girando Sto video Forse lo dividere In due parti Non lo so Ah Quaco Mi è servito Grazie Grazie a Quaco Mi sei servito Ti voglio bene Sei il mio nuovo miglior amico Aspetta che tu faccio Neutralizzare un po' Ok Vai da sopra Li sono saltato Non mi aveva preso Prima Dai però Che cazzo Allora Ora so cazzo Perché ora so doppie macchie Quindi Dove vedere meglio l'ombra Ok Come arriva qua l'ombra Ci spostiamo qua Come arriva qua l'ombra Ci spostiamo qua Ancora non ha finito eh No no Ha finito cazzo Strano Ha finito Aspetta eh Aspetta 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 Ci buttare un'altra volta Vaffanculo Muori Muori buttano Muori Sì Grande Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Quel pingüino di merda Allora Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Abbastanza E ricordate Mi piace Perché li abiliterò E ciao a tutti ragazzi Ciao 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 Ciao